Allora vi do qualche informazione, diciamo intanto, quindi la patente per il frigorista già obbligatoria. L'Italia non ha recepito la norma europea, quindi la loro legge, probabilmente entro l'anno prossimo sicuramente, sicuramente. E il riservo dell'ambiente dovrebbe attivare le commissioni, quindi chi metterà l'analisi di cui il frigorista dovrebbe essere patentato. E la patente, sono quattro livelli di patente, primo, secondo, terza e quattro. Con i gradi più bassi praticamente non ci fate nulla. Gli ultimi due gradi servono a chi recupera i flui refrigeranti. Vi faccio un esempio. Chi sta a uno spascio, recuperano i frigoriferi, chi sta nelle autodemolizioni, bisogna recuperare i flui ulteriori naturalmente, anche i flui di refrigeranti presenti nei circuiti. Quindi chi ha la patente più bassa si deve limitare soltanto a recuperare i flui refrigeranti. Quindi avrà un'attrezzatura e avrà delle competenze limitate al recupero dei refrigeranti dai circuiti e basta. Cioè non deve riparare, installare il fisico, deve soltanto correttamente recuperare i flui refrigeranti senza fargli andare in atmosfera. Quindi dovrà conoscere delle procedure molto limitate. Per invece installare e riparare i fogli di grado e i quarti. E qui, la verità, è abbastanza dura la cosa. Io ci sono già i programmi, eh? Perché, le ripeto, l'Europa non solo ha normato le patente, le patente ormai ci stanno. Quindi dall'estero ti prende la patente, supera un esame ed è esame abbastanza complesso. Allora ho fatto questa premessa perché ho trovato questo foglio perché tutta questa storia della patente, da dove nasce? Non nasce per un'azione tecnica di installazione. Nasce per una problematica ambientale, di inquinamento atmosferico. Scusi, adesso, ma poi la patente ci sarà una dimissione? La patente è fatto. La patente la rilascia lo spargo, sicuramente sarà competente il ministero dell'ambiente per la patente e per i condizionatori. Perché si tratta di un discorso di emissione ad un specchio. Adesso noi facciamo il primo e il secondo complesso, no? Voi fate il primo adesso. Il secondo poi lo farete più in là. Sì, ovviamente distaccato dal primo. Sì. Dopo il secondo che succede? Cioè, dobbiamo fare un esame della condizione? No, io per il momento vi rilascio un attestato di specializzazione per il sistema di condizionamento e refrigerazione. Un attestato di pesce, no? Avete fatto un corso specializzazione in impianti di condizionamento aria e frigorifiche. La patente è un altro discorso. La patente è un altro discorso. La patente è uno Stato che la deve istituire. L'Europa già l'ha istituita. L'Italia, che fa parte della comunità europea, deve istituire per forza la patente. Noi, per esempio, abbiamo dopo di che hai fatto il corso qui da lei, no? Cioè, dobbiamo poi fare qualcosa per affrontare questo valentino? Sì. L'affrontare questa valentina è abbastanza tutta. Quindi, questi due corsi, in pratica, non sono sufficienti. Toccherà fare un corso specifico per la patente. Cioè, io quando faccio i corsi per ripartire dalla staccato, lo vedi? Piccio in maniera specifica su ciò che vuol sapere la Commissione. La Commissione non mi fa un esame mirato, diciamo, alla preparazione dei. Anche quello, naturalmente, lo conosce per il mio piatto. Però alla Commissione interessano particolarmente alcuni aspetti che io, in questi due corsi, un po' che ti lo tralascio. Cioè, nel momento ve ne parlo, vedo il materiale, ma non li approfondisco troppo, perché a fine dei conti ti interessano un po' poco. Sono quelle legate alle problematiche ambientali. Cioè, non è che mi interessano poco perché siete insensibili, ma per il momento mi interessa più sapere come funziona un piatto frigorifero. E magari metterci le mani. Poi, a grandi linee, io vi spiegherò ecco, la problematica ambientale, intanto te ne parlo. Poi agli esami, sta problematica ambientale diventa molto stringente. Allora, a quel punto noi ci prepareremo, l'esame adesso vediamo che è molto importante, è orario, si è scritto, se ci sono dei quiz. L'attestato è solo preparatore? L'attestato è solo preparatore. Cioè, tanto, tu per prendere la patente, ti devi preparare. Questi due corsi già ti preparano per la patente, però diciamo che non sono sufficienti, perlomeno per il grado più elevato di patente. Poi per l'altro di patente i gradi più bassi non avanzano. Ma, ripeto, i gradi più bassi ci fate poco. Cioè, a te non interessa recuperare e riferire, mica lavorare in uno spazio di lavoro. Dico, il secondo grado... Primo, secondo grado. Sono tu a pari livello oppure... No, non so a pari livello, se non è il primo e il secondo. Poi dopo vi parlerò della normativa dei patenti e vengo proprio la legge. Cioè, c'è il programma, già c'è tutto. Cioè, voi quando dovete affrontare l'esame, che patente voglio prendere? Il primo, il secondo? La patente è chiara che dovete prendere, perché chi lavora nei piatti frigoriferi deve fare la patente. Punto. Quindi, per legge, nessuno, tutti i vecchi installatori dovranno acquisire la patente. E anche per loro sarà... Finché non verrà messa questa commissione, sarà buono l'attestato? No. Affinché non ci sarà la patente, sarà buono la 4690. Quindi, lettera C della 4690. Si è abilitarla a installare impianti termici. Impianti termici significa impianti migali e impianti freddo. Quindi, bisogna avere la lettera C della ex 4690. Oggi legge 37. Quindi, chi installa, dove è installato uno scritto a casa della persona, gli deve lasciare la certificazione di conformità. Che sei una D abilitata a installare quel tipo di impianti. Lettera C di Italia 1597. Oggi, domani, tutti gli installatori dovranno avere la patente. E la patente, primo, secondo, terzo e quarto livello. Allora, primo livello, poi ripeto, poi ne parleremo più dettagliatamente, però adesso deve dare un'idea. Allora, quarto livello, controllo delle perdite degli impianti impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Quindi, terzo livello, solo recupero. Quarto livello, controllo delle perdite. Secondo livello, manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Manutenzione e riparazione. Primo livello, installazione. Di impianti di refrigerazione, condizionamento e o pompe di calore. Questa è la cazzetta europea. Quindi, senza servire potenza. Primo livello, installazione. Secondo livello, solo manutenzione. Terzo livello, recupero. Terzo e quarto livello ci fate poco nulla. Vedete, senti, il primo livello, ecco qui un questionario, questo è il programma su cui dovete essere preparati. Per il primo livello, base di termodinamica. Conoscere un'unità di misura di base standard di ISO, come temperatura, pressione, massa, densità e energia. Capire la teoria di base dei sistemi di refrigerazione. Termodinamica di base, termini chiave, parametri, processi come sul riscaldamento, lato di alta pressione, calore di compressione, intalpia, effetto di refrigerante, lato di bassa pressione, sotto raffreddamento, questo è tutto quello che facciamo. Quindi vi ripeto, quello che facciamo? Sì, anche col filmino. Assolutamente. Qui, tutto quello che qua facciamo è esclusivamente il programma per frigoristi. e vi servirà per l'esame. Poi magari per l'esame bisognerà sapere anche qualche altra cosa. Anche perché a livello di problematiche della comunità europea, ciò che riguarda l'inquinamento è un po' prioritario. Allora, adesso il gas refrigerante, io vi parlerò più degli aspetti tecnici, meno degli aspetti che riguardano l'inquinamento. Quelli poi bisognerà un pochettino implementarli. Ripeti, adesso, dato che so che cosa volete voi, voi volete imparare, insomma, a mettere i maneggi con le frigoriche. Allora, è questo, lo sappiamo tutti. Per la legge, invece, sono degli aspetti che dovete riconoscere. Come dire, va a prendere la patente autobunistica. A te ti interessa, ma la patente che dovete dare. Nel programma, oltre ai segnali stradali, verticali ed orizzontali, c'è un qualche cosetto sul motore, c'è qualche cosa sull'educazione stradale, c'è qualche cosa sull'infortunistica. Primo soccorso, un incidentato, respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, come distendere la persona, eccetera, eccetera. E quindi, però, il programma è quello, dovete rispondere anche su quello. E così è qua. Alcune cose adesso ancora trascuriamo, perché io so che vi interessano di meno. Però, ma avete qui c'è la patente, voi quelle cose, materiale ce l'avete, voi potete anche sui erasoli. Però vanno implementate. Sul libro del secondo valore, queste cose non ci sono? Queste, no, assolutamente. No, diciamo che ci sono delle cose che... Sulla termodinamica ho letto. Sì, sì, sì. Ci sono, non sono letto. Sì, ma non è che la termodinamica, la termodinamica è un argomento vastissimo. E' come dire, qui facciamo medicina, no? Però è un corso di cardiologia. Arriva uno, un neurologo, dice, ma di che sta da parlare? Dici, noi ci occupiamo di cervello, poi ci occupiamo... Arriva un angiologo e dice, io mi occupo di bene. Quindi gli argomenti sono estremamente vasti. Diciamo che un piccolo vantaggio, voi ce l'avete che fa il vapore. Perché? Perché le entalpie, le temperature di evaporazione e condensazione sono materie anche per i frigoristi. Quindi c'è un'affinità per alcune cose. Quindi sicuramente ci sono vantaggiati. Per esempio, il vapore surriscaldato, voi già sapete che cos'è. Perché si studia il vapore surriscaldato. Lui il vapore surriscaldato non sa che cos'è perché, diciamo, il vapore non l'ha studiato. Quindi sicuramente avete un po' di vantaggio. Però la termodinamica poi, insomma, sono aspetti anche diversi. Scusa, per il palentino ci sarà un libro di studiare? Al momento non esiste nulla. Però un libro. Sì, anche libri. Ma, diciamo, io uso più le dispense. Perché il libro invecchia. C'è una lingua. Il libro invecchia. Qualunque libro tu vai a comprare in questo momento è vecchio. che si ha. Invece i refrigeranti, c'è il 410A, il 407C, il 422D. Insomma, tutta roba che se uno gli sta attresso non li trovi sui libri. Li trovi, diciamo, sulle riviste del settore. Le quali seguono, momento per momento, le cose. E' molto più aggiornato. Tu, se io voglio, tu guarderai un libro, lo trovi adesso. Ma ormai sono anni che sono usciti. Quindi, il libro di solito non è adatto. Il libro risente di una certa inerzia. Invece, le riviste specializzate, no? Tipo il giornale per un idraulico, RC, riscaldamento, di materializzazione idronica e sono tante riviste del settore. Quelle, giorno per giorno, seguono novità. Ogni cosa, no? Ti dicono, ti danno delle informazioni. Stessa cosa, sta patente. Chi è che scrive un libro che sta patente? Nessuno. Chi se lo contro? Oggi nessuno. Sì, Patoani si darà la patente, ma... Non sono libri che hanno delle grandi tirature, insomma. Allora, vi dicevo, primo livello. Ecco, sotto raffreddamenti, sui riscaldamenti. Puoi usare le tavole di diagrammi principali, no, tavole di diagrammi, diagramma psicometrico dell'umidità, tavole delle portate dei prudi refrigeranti, e interpretarli nel contesto del controllo delle perdite in modo indiretto. Diagrammi di pressione e tampia, tavola di saturazione dei refrigeranti, diagramma del circuito frigorifero ad un compressore. Puoi conoscere l'operazione base dei seguenti componenti usati nel sistema di refrigerazione e il loro ruolo e importanza per prevenire e identificare la perdita del refrigerante. valvola a sfera, diaframme, valvola a globo, valvola di sicurezza, controllo di temperatura e pressione, schiedi liquide e indicatori di umidità, controllo di sbrinamento, sistemi di protezione, dispositivi di misurazione come il termometro, sistemi di controllo dell'olio, ricevitori e separatori di libri di umidità. Siamo alla prima pagina e ho letto tre cose. Sono in tutto cinque pagine, naturalmente non ve le leggo tutte, perché adesso non ci serve. Però vi do un'idea di quello che è il programma per il primo livello, per installare, che è abbastanza duro. Anche i vecchi frigoristi esperti, prima di affrontare questi esami, si dovranno dare una bella ripassata. Perché il frigorista spesso è uno pratico che mette le mani, c'è una cosa esperienza. Ma se si presenta all'esame, a livello teorevo, lo facciamo giubbido. E' un dato. Eh. Però gli mancano spesso, diciamo, i principi di termodinamica, i principi fisici. E quelli c'è in esame di stato. E' niente di dire. Allora vedete, a Valencia ha presentato un rapporto delle Nazioni Unite. L'IPCC è il Comitato Intergovernativo sul mutamento climatico. Voi sapendo, avete sentito parlare, nel protocollo di Giotto avete sentito nominare? Il protocollo di Montrio? Gesù. Si riunivano magnate Giotto. E Giotto? No. Qui si tratta di problematiche che riguardano i mutamenti climatici. Il suo riscaldamento dell'atmosfera. Allora, l'ultima riunione, vedete, New York. Ban Ki-moon, che è il segretario di questo IPCC, dice, mi presento davanti a voi con lo spirito umiliato. Oh, qui c'era la riunione, c'erano 130 paesi. E poi la prima nazione che non aderisce? Chi è? L'America. Bravo. La Cina. No, no, la Cina ha aderito. Allora, tutti aderiscono. Adesso con Obama ha aderito anche l'America. Ha aderito. Con Clinton l'America aveva aderito. Poi è arrivato Bush e non ha sparigliato le carte. Perché Bush, si disse, era andato al governo con i soldi dei petrolieri. Cioè, lì sono delle cordate, no? Quindi, chi finanzia la campagna presidenziale? Chi sostiene un presidente? Nel caso di Bush erano stati, prevalentemente, gli industriali petrolieri. Ai quali lui ha dovuto dire adesso non vi rompe più le scatole, questi sono i suoi problemi dell'impinamento. Ci siamo. Il calivio industriale ha il peso. Quindi Clinton aveva aderito di una certa misura. Bush si è un po' tirato indietro. Adesso Obama ha aderito in pieno. I cinesi e gli indiani hanno aderito pur se con modalità un tantino dicendo da decitempo no, la nostra economia, le nostre economie in decina sono in evoluzione adesso. Voi avete raggiunto il penestre, avete raggiunto lo sviluppo industriale. Noi stiamo arrivando adesso. Però non ci potete tagliare le gambe con delle restrizioni, diciamo. Quindi noi aderiamo perché il pianeta è di tutti e a me ci ammazziamo tutti quanti. Il discorso è questo. Cioè non è che i cinesi sono stupiti o gli indiani sono insensibili a queste problematiche. però hanno chiesto un tantino più di tempo. Diciamo che se lo fanno loro è più ragionevole che se lo fa l'America, no? Eh, insomma, mi pare che... Quindi, dice, voi avete questo inquinamento, questo problema chi le ha create? L'avete creato voi, paesi avanzati? Adesso non potete venire a dire a noi paesi più arretrati di, insomma... Ecco, per esempio, la foresta amazzonica, no? E' stato chiesto al Brasile di non deforestare. Ci vuoi stare distruggendo il polmone del mondo, la foresta amazzonica. Mi pare che il 60% dei prodotti farmaceuti i farmaceuti con principi vegetali vengono da quella foresta. Quindi sparita quella foresta quella foresta viene devastata tutti i giorni. E allora, se i paesi più evoluti, noi, che abbiamo queste problematiche, e si vanno a dire, ma smettete da questa foresta. Quello hanno detto perché? Perché sennò qui l'atmosfera si satura e tra dieci anni moriamo tutti. E quello hanno risposto tra dieci anni, ma noi stiamo a morire oggi. Cosa ci viene da raccontare? Ci siamo? Allora, giustamente hanno detto, voi non volete che noi teniamo quest'albero? Pagateci il costo di quest'albero. Cioè, se quest'albero serve appunto all'umanità, manteniamolo tutti. Noi quest'albero oggi lo tagliamo e ci campiamo. E arriviamo a domani. E se no, siamo morti oggi. Quindi, naturalmente, i paesi più ricchi, è chiaro che si devono mettere la mano sulla coscienza che sul portafoglio in più e dire che le spese idiome di questa storia li dobbiamo sottoccare noi. Comunque, 130 paesi al New York, no? Si sono riuniti. E Ban Ki-moon ha detto, dice, mi sento umiliato dopo aver visto i più preziosi tesori del nostro pianeta minacciati dalle nostre stesse azioni. Traverso il pianeta noi lo stiamo ammazzando. Gli scienziati, vedi il secondo paragrafo, cosa dice? Gli scienziati hanno scritto che un incremento di temperatura di un solo grado nella media terrestre sarà sufficiente a minacciare di estinzione un terzo delle forme viventi dal nostro pianeta e a esporci a ondate di calore eccessiva, inondazioni e siccità. Ma le previsioni del 2030 parlano di un surriscaldamento di 3,5 gradi che corrispondono allo scioglimento delle calotte di ghiaccio in Groenlandia, a un innalzamento catastrofico delle acque per alcune zone costiere, a una frequenza imprevedibile copiosa di uragani. Il problema è così seria e travolgente che solo un'azione immediata e globale potrà, diciamo, interfire questa tendenza. Il protocollo di Chiotto, in pratica, diciamo che ha fallito un po' le sue previsioni. A Chiotto ci ha messo d'accordo nel ridurre l'emissione di CO2, pianeta carbonica. In realtà le emissioni sono aumentate a disvisore. e quindi poi, vabbè, ti dice anche in decina che cosa. Allora, il problema qual è? Qual è il problema? Perché interessa i frigoristi. No, perché interessa a noi, in primis. Il problema è subriscaldamento del pianeta. Questo è il nostro pianeta. Il piano della Terra quant'è? 12.000 chilometri. Iniziamo. Il piano. Circa 12.000 chilometri. L'atmosfera attorno alla Terra quanto è alta? 3.500. Eh? 3.500. 3.500. No, più alta. Andiamo in montagna a 5.000 metri. Gli scalatori cominciano a mettere... a respirare con l'ossigeno. 6.000. 6.000. No, no. Beh, non è indefinito un po', diciamo, l'altezza finale. I palloni sondri arrivano sui 12.000-13.000 metri. No? Galleggiano piedi. Non so se ci mettono l'edro, l'idrogeno, no? No. Però, man mano che andiamo su, l'aria è sempre più rarefata. Si sa? Meno densa. Esattamente dove finisca, perché poi man mano diventa sempre... Però, ripeto, man mano che si sale, la pressione diminuisce, l'aria diventa sempre più rarefata. Diciamo 20 chilometri di atmosfera, diciamo, abbastanza buona, no? Adesso, 20 chilometri di altezza dell'atmosfera su 12.000 chilometri. Che cosa sono? 20 su 12.000. Niente. L'atmosfera della Terra è questa qua. Chi si ha? Ad esempio è una patata, ma manca un'arancia che c'è la cuscia spessa. L'atmosfera della Terra è uno spazio sottilissimo, rapportato al diametro, no? 20 chilometri. Costavano 30, ma di aria, diciamo, sempre meno... E allora, quest'atmosfera in cui noi viviamo, quindi l'area respirabile, le temperature, non siete problemi, si è formata in milioni di anni. Fino a 40-50 anni fa, quest'atmosfera non ha mai avuto problemi. fino a 50 anni fa, lo sviluppo industriale, il traffico auto-veicolare, i processi di combustione sono estremamente limitati. E quindi l'atmosfera godeva ottima salute. In questi ultimi 40 anni è avvenuto uno sconvolgimento. Noi abbiamo scaricato e continuiamo a scaricare in atmosfera delle quantità terrificanti di fumi, le nostre emissioni, l'attormizzazione del pianeta, no? E poi siamo arrivati a 6 miliardi, mi pare. Quindi proprio... Sto pianeta morirà. Zittini che dicevo sono 50 le emergenze del pianeta Terra. Dimo, francamente, quali sono queste 50? Però la sua popolazione è uno. Il suo riscaldamento del pianeta è un'acqua. Il problema dell'acqua è un'acqua. C'è una schizia. Cosa sta succedendo? Poniamo che l'atmosfera, no? Siamo più ottimisti in questa qua. Il sole, quindi, emana le sue radiazioni, che sono prevalentemente due, raggi ultravioletti e raggi infrarossi. I raggi ultravioletti sono quelli che vengono fermati dall'ozono. In atmosfera, avessendo parali di bughe nell'ozono, no? Che cos'è l'ozono? È ossigeno trivalente, o tre. Anche questo ossigeno, queste molecole di ossigeno trivalente, si sono formate in atmosfera attraverso i millenni, decine di migliaia di anni. E questo ozono riduce la violenza dei raggi ultravioletti. Perché i raggi ultravioletti, se arrivano sulla Terra, non filtrati da questo strato di ozono, producono tumori della pelle, producono alterazioni genetiche sia agli animali sia ai vegetali. Quindi, con conseguenze praticamente gravissime. E allora si è visto che nell'atmosfera si erano cominciati a formare dei buchi in questo ozono. Per cui, questi raggi ultravioletti arrivano su di noi con una violenza, diciamo, pericolosissima. Che strato c'ha questo ozono? Eh? Che strato c'ha questo ozono? Che strato c'ha? Nelle parti più alte dell'atmosfera c'è questo strato, non so che spessore sia, che quantità, di ossidio non trivalente. Che cosa sta succedendo? Che il cloro è emesso da una quantità di processi industriali, ma, per quanto riguarda gli impianti picoliberi, presente nei cloro-fluorocarburi e presente negli idro-cloro-fluorocarburi questi sono tutti i gas e riferenti, eh? Adesso vi dico i dettagli. Le molecole di cloro distruggono le molecole di ozono riducendo l'ossigeno ovviamente l'ossigeno è quello che noi respiriamo. Ma a noi non interessa questa, a noi interessa questo. Ci siamo? Quindi sta venendo a mancare, per colpa, prevalentemente, delle molecole di cloro, una molecola di cloro che ha una strage di, diciamo, di ozono, riducendolo a ossigeno ovivalente. Quindi viene a mancare questa protezione. E' chiaro che se l'atmosfera fosse priva di ozono noi non potremmo esporciare la diversione. Ci dobbiamo proteggerlo con degli indumenti, che ne so, con un ombrello d'alluminio, con una tuta metallica. Diversamente. Questo è un aspetto. Quindi i pochi dell'ozono sono stati rilevati nei vari pori in maniera prevalente e comunque sia, pare che queste molecole di cloro comunque ormai emesse in atmosfera dell'altra ventina di anni continuano a salire creando ulteriori danni. Però per lo meno bisogna fermare questa distruzione di queste molecole di ozono. Quindi tutti i liquidi refrigeranti sono liquidi che volano a bassa temperatura. Volete temperature molto basse, tipo l'azoto liquido, no? L'ossigeno liquido. Questa qua, vedete, è una miscela con la temperatura del porco, bolle e basura. E' una miscela a base di etere. Quindi noi possiamo realizzare liquidi che veramente possono a tutte le temperature. Oppure possiamo creare le condizioni per fare impollire a bassa temperatura. Per esempio l'acqua. L'acqua, poi ve lo spiego, è usata nei sistemi ad assorbimento. Gli sistemi di refrigerazione sono diversi. C'è una comprensione. Questo è l'assorbimento. Questo è il liquidi refrigerante all'acqua. Acqua è il brumuro di vidrio. Come si fa a usare l'acqua come refrigerante? La si fa impollire a 7 gradi. E' fredda. E come si fa a fabboli l'acqua a 100 gradi? E' 100 gradi. E' 100 gradi su me. No. Ma passando la pressione. L'acqua, poi, a 100 gradi, il livello del mare, ha una atmosfera. A 0,01 bar, l'acqua, poi, a 6,7 gradi. Ma se cade ancora la pressione, l'acqua, poi, a 10, a 20 gradi sotto 0. Pagano. È ok! Pagano.